Allora, se non ci sono altri interventi, io scusa il consigliere Aluccia, se non ci sono altri interventi, metto in colazione. L'anno in diritto è stato presentato dal partito del programma, è sottoscritto dai consiglieri di Balsamo, Mariano, Fuccio e Re. L'anno in diritto è stato presentato dal partito. E' foundationalistero. L'anno in diritto è stato presentato dal partito del programma, sono a Roma che d size fatta e di a presto tu produzione del programma, è sottoscritto dai consiglieri di fare comuni. Nel Le Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.